Questa mattina il pacchetto è pronto per essere spedito. Sai che è una cosa che faccio rarissimamente. Ma visto che non riuscirai mai a venire a trovare la tua dieta, ti spedisco un paio di calze imbossate da me. E' precisamente un paio di fila d'oro per sé. Usatissime, purtroppo anche un po' svanigate. Un caro abbraccio dalla tua zietta. Ci sentiamo presto. Un bacio. Ciao. 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 Ciao.